al numero uno eccola la ragazzi al numero uno ciao come li chiami? si chiama Luisa da noi viene Luisa? viene da questi due cosa fai di bello nella vita? lo canario come vorresti con un uomo ideale? voglio un uomo di Bologna c'è un uomo di Bologna qua ragazzi? ah ce n'è qualcuno io sono della Romagna è la prima volta un po' emozionata fammi sentire il cuore molto emozionata questa ragazza mi raccomando allora prego grazie speriamo che questo messaggio è più forte che cambi la tua vita radicalmente ok vieni ragazzi chi è il numero 112 uno uno due chi è il 112 è là lo vuole la cameriera se è già innamorata questi questi li possiamo togliere se danno fastidio potremmo tirare su questi che danno fastidio grazie a tutti Grazie